Per la rubrica Le interviste impossibili abbiamo incontrato il celebre poeta barese Nicola Maselli al quale chiediamo qual è la sua impressione di questa città in questo particolare momento storico di Bari Bari è una bellissima donna che tu la ami e la puoi anche odiare perché quando fai l'amore con lei te ne accorgi che non è una donna né un uomo, è una cosa imprevedibile, indivisibile e inconcepibile ecco Bari è una di quelle donne che perdi la testa senza capire se puoi fare l'amore o meno Quindi è una che non te la dà subito? La verità Bari non l'ha data mai a nessuno, è stato un po' socialista, un po' democristiano, un po' comunista, un po' di tutto Lei è un utopico? Sì, ho sempre pensato a un mondo perfetto, la perfezione intesa come il raggiungimento della felicità ma penso che la felicità dipende dagli altri e siccome dipende dagli altri a volte restiamo delusi perché aspettiamo come Godot qualcosa che non arriverà mai E Bari ne aspetta tanti di cose che non sono mai più arrivate Questa è una città che merita molto, mi dispiace che le dico la verità, anzi ti dico la verità perché sei giovane e ti dico che in realtà questa città merita ben altro sul piano culturale, sul piano estetico, sul piano della felicità è una città che avanza molto dalla politica, questa è una città che veramente, come si dice, è una bella fidanzata soltanto che ha avuto amanti che non avevano una grande visione di quello che è l'amore che si fa sul piano intellettuale sul piano fisico e sul piano del Kamasutra ecco, molti amanti non conoscevano nemmeno gli orgasmi per far arrivare questa bella città Ecco, guardando questo mare, oggi, che poesia possiamo dedicare a Bari e ai Baresi? La poesia della solidarietà, perché in questo momento c'è bisogno di molta solidarietà guardo il mare e vedo tutte quelle persone morte, qual è la risoluzione? Non lo so, io vorrei fare un appello al Papa di intervenire affinché parli con suo padre Dio e faccio ritornare Gesù Cristo, perché il mondo di oggi ha bisogno di un nuovo Gesù Cristo con la speranza che non lo rimettono in croce come allora Grazie, ti saluto, ciao Amen, dal lungomare di Bari con Nicola Maselli Com'è andata?